Presentati a vari risultati di Goletta Verde, la storica manifestazione di lega ambiente che monitora lo stato di salute del mare e dei depuratori. In buona sostanza, secondo i dati di Goletta Verde, è buono lo stato di salute del mare in Puglia. Per quanto riguarda la depurazione, scendono a tre gli impianti che continuano a scaricare nel sottosuolo. Il 17% presenta criticità, ma intanto si procede con gli interventi per migliorare il comparto depurativo. Sette campionamenti su 29 eseguiti lungo le coste pugliesi risultano fuori dei limiti di legge e di questi 5 sono fortemente inquinati. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. E' quanto emerge dai risultati del monitoraggio in Puglia di Goletta Verde, la storica campagna di lega ambiente che monitora lo stato di salute del mare, delle coste e delle acque. Dai risultati il mare pugliese gode di un buono stato di salute, possiamo dire. I malati cronici continuano ad essere le foci dei fiumi e i canali. In particolare su 29 campionamenti abbiamo trovato solo 7 criticità. 7 punti inquinati, di cui 5 fortemente inquinati e 2 inquinati. Le criticità riguardano i tratti di mare interessati dalle foci dei fiumi e dai canali. In particolare abbiamo trovato inquinati alcuni fiumi tra il Chidro, il Candelaro, lo Stone e altri canali. Ovviamente lega ambiente monitora non solo i punti balneabili, ma anche tutti quei canali che scaricano a mare, foci di fiumi che anche se non balneabili non significa che devono diventare delle fogne a cielo aperto. Sul fronte dei depuratori intanto Goletta Verde registra importanti progressi. Tre gli impianti che continuano a scaricare nel sottosuolo. Il 17% dei depuratori presenta criticità, mentre il 16% è soggetto a scarichi anomali. Intanto però proseguono gli interventi per migliorare il comparto depurativo e sono numerose le iniziative messe in campo dalla regione per incentivare il riuso delle acque reflue in agricoltura. Diciamo sul fronte della depurazione Napoli sta facendo dei grossi passi in avanti. Le criticità sui depuratori si riducono a 32 depuratori. Solo 32 depuratori presentano una non conformità alla direttiva europea sulla depurazione. Gli scarichi anomali a cui sono soggetti gli impianti si riducono solo a 30 impianti. Un'altra buona notizia è quella che i comuni sottoposti a procedura di infrazione scendono da 27 a 6. Su ben 21 comuni si sta avviando la procedura per l'esclusione dalla procedura di infrazione. Questo è un dato molto positivo e anche lì dove ci sono delle criticità ci sono dei forti investimenti per potenziare, adeguare o contenere le emissioni di origine degli stessi depuratori.